Nel lato dell'orto a Tramontana ci sono due piante di melanzana. I bei frutti viola, carnosi e lucenti, fon mostra di sé tra i rami pendenti. Non corre buon sangue tra le due vicine, perché han forme diverse e pur se son cugine. Dice la tonda, io sono la migliore, ho molta più polpa e più dolce sapore. Ribatte la lunga, che idea balzana, io sono ideale per la parmigiana. È molto più bello il profilo tondo, dai tempi di Giotto lo sa tutto il mondo. Taci cicciona, quel che dice il reale, esser Nelly si sa oggi è essenziale. La sfera è simbolo di perfezione. E allora? La mazza da soddisfazione. Così litigavano in ogni momento, dall'alba al tramonto, col sole e col vento. La guerra finì soltanto quel giorno in cui il contadino le tolse di torno. Fu giunti in cucina che arrivò il bello, quando incontrarono un lungo coltello che le taglia, sminuzza e riduce a cubetti, tra loro simili, quasi uguali, perfetti. Le due melanzane ormai trasformate finiscono insieme, tutte mischiate in una padella di olio bollente per essere cotte congiuntamente. Fu così che una lama senza tanta creanza, so i sei nodi di forma e lasciò la sostanza.